Giuliana Esposito, ieri al Cobar di Stecca la presentazione di un progetto per le donne, il progetto AIDA. Sì, ieri è stata l'occasione, la presentazione del progetto AIDA per fare una riflessione su un tema quanto mai attuale che è quello dell'occupazione femminile e soprattutto su quali sono le cause che ancora persistono e generano delle condizioni impari di accesso e di permanenza per le donne nel mercato del lavoro. Purtroppo oggi abbiamo ancora la consapevolezza che i percorsi di vita, le scelte di vita delle donne vengono influenzate da quelli che sono stereotipi culturali che ciascuna di noi ha interiorizzato, per cui si vanno a condizionare sia le scelte di vita, di studi, la stessa scelta se lavorare o se restare a casa o addirittura la scelta di un percorso formativo umanistico piuttosto che scientifico, ecco queste sono tutte condizioni che poi determinano la capacità di una donna di accedere e restare nel mercato del lavoro. Come superare questi stereotipi? E' bene che ci siano iniziative come queste dove in qualche modo si ha la possibilità di far emergere questi stereotipi che ciascuno di noi ha interiorizzato perché sono permeati nel nostro contesto culturale e soprattutto dare la possibilità alle donne di acquisire gli strumenti per avere maggiore consapevolezza su quelle che sono le proprie capacità, le proprie competenze e soprattutto quali sono gli strumenti per poter accedere al mercato del lavoro. Noi abbiamo immaginato un percorso che si sostanzia fondamentalmente in una attività formativa e di empowerment. Saranno erogati dei corsi su informatica, orientamento al lavoro e impenditorialità. Quando partiranno questi corsi? Partiranno all'inizio di novembre. Attualmente è possibile presentare un'adesione al progetto scaricabile dal sito www.associazionebeta.net o dalla pagina facebook dell'associazione beta e presentarla fisicamente alla stecca dove è a sede l'associazione beta oppure inviarla all'indirizzo beta associazione chiocciola gmail.com Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!